e la strada la strada si è il clave con la strada che cazzo ha detto oh che figata da quando hanno messo quei pannelli isolati da oh cazzo allora la composizione legalità forzata da maniera di risonanza ma che cazzo stanno combinando ragazzi mi spiegate che succede oh cazzo oh doppio oh cazzo votazione minaccia cinese rossa minaccia cinese rossa ma che è comunisti oddio perchè si è bloccata la ecco oh forte ma perchè tutta a me deve succedere non potevo starne nel mio comodo volt oh cazzo ma ma non lo lasciate da solo ah no sono tutti li e fox si sta cacando sotto bellissimo eh sì eh tu che dicevi che è una palla pazzesca ok ma è che ho dicevo di questo è di questo ah che palle che palle non solo gli altri adesso pure tutti ci metti oh bellissimo ma da dove cazzo è non basta che lui va avanti e io sto dietro o sarai esterbato che cazzo oh che cosa è quella cosa il comunismo è la vera definizione di fallimento il comunismo è il fallimento noto dei messaggi subliminari nelle sue parole che lo so oh cazzo avanti coso vai oh cazzo uh soldato no ho preso dei bocconcini ma è di bocconcini dove stanno i bocconcini oh patate e no cazzo doppio è il diritto sovrano l'americano male comunisti di destra Che siete, giusto per sapere? Ovvio che io ho un ciocco da Berlusconi. Sì, e anche da Prodi, da Fini, da tutti quelli. Prodi di sinistra. Ah, allora sì, hai ragione di Berlusconi. Non facciamo troppi nomi però su YouTube che mi hanno informato che facendo troppi nomi si può essere, come dire, non so come dire. Edimidati. Esatto. Volevo usare un termine meno, meno, pericolo, spero. Che cazzo... Ma da dove le lancero tutte quelle cose? The more time. Che palle. E perché si è bloccato il super cosa? Oh, porca. Fox, che cazzo stai a fare come un coglione là? Che cazzo ti guardi? Ciao. Andiamo. Che cazzo è che aumenta l'aviazione? E lui, o è forza? Fox. Ma che fin avevano fatto gli altri? Oddio. Avviare sopra la morte? Avviare sopra la morte. Ma tu ti vieni quando hai cazzato i bici? Mi sa di no. No, perché mi spara? Ma ne hai tolto il bottone gigante, perché non hai preso anche loro? Out. Out. Esatto. Porca puttana. Quello cos'è? No. È un amico. Perché ve la prendete come? Fox, aiutami. Ho già fatto il robot. Dove è Fox? È morto. No. Eccolo. Eccolo. Che cazzo. Volevi ripagarmi? E ripagami, porca di quella puttana. Eh, questa è una di Steam, ma che eccolo. Bravo, Fox. È quello? Oh, aiutami nostri. Che falli. Ma con quel sorto di giocattolone non riesce proprio a prenderli, eh? Un po' di merda. Va, fanno il culo. Tutto io devo fare qua. Oh, sì. Sì. E intanto... Stiamo facendo pace con il nemico. Nuova soluzione. Avviare sovraccarico di risonanza fotonica. Hmm, basta che sai cosa fare. Oh, interessantissimo. Che cazzo sta succedendo? Bravo, Castorner. Oh, forza. Questo? Valutazione tattica. Vittoria rigenese rossi. Impossibile. Ah, beh. Cinesi e rossi. Minchia. Mi sa che avete capito ragione. E comunque siamo quasi arrivati al... Dove dovremmo andare? Eccoci qua. Sai che significa? Che siamo molto vicini alla fine. Molto vicini. Olè! E parteciperemo tutti con un olè! Ah, ecco, folks. Dove la termina? Eccola. Possiamo andare. Fatevi avanti i cinesi, i rossi, tutti quelli che siete. Perché io non ho power. Aiutatemi, ragazzi. Oddio. È esattamente questo che cercavo da loro. Ma che cazzo vi faccio campare a fare, voi bastardi che nemmeno sparate? Solo folks. Ma non ho capito ancora chi sta sparando perché sono tutti in vita là. Oh! Eh, che cazzo. Proprio la donna ha preso un'iniziativa. Brava. Hai morta? Vai. Sì.